Musica Mister Roberto Crea del Audax Ravagnese a lui il microfono per commentare questa partita Niente, la partita era iniziata nel migliore dei modi perché dopo un minuto siamo passati in vantaggio poi forse la frenesia, la voglia di vincere perché parliamoci chiaro sportivamente parlando era l'ultima spiaggia per noi perché vincendo oggi potevamo avere qualche altra speranza e magari non abbiamo fatto le prestazioni che abbiamo fatto altre volte ma dovuto al fatto che ci tenavamo troppo a vincere e magari un po' di nervosismo calcistico perché con la squadra del merito avete visto è tutto filato liscio e purtroppo poi siamo ritornati in vantaggio però poi non abbiamo Sul 2-2 avete avuto la palla del 3-2 Sì, abbiamo avuto anche la palla del 3-2 però purtroppo quando l'annata nasce in un determinato modo non può finire meglio diciamo però la cosa che ci fa onore è che stiamo cercando di onorare il campionato fino alla fine Io sono venuto in questa società durante le feste di Natale sono qua con i ragazzi, sono tanti dell'Under mi fa piacere essere qui e dargli una mano e cercheremo di onorare il campionato fino alla fine come oggi ha fatto giustamente il merito perché anche se non aveva obiettivi ha fatto la partita come è giusto che sia senza problemi gli faccio i complimenti a tutti dal mister ai giocatori, Ciccio Candido che ho avuto a Bocale ho affrontato una squadra che ho giocato anche a merito il mister Tripodi è stato tra i miei allenatori quindi gli faccio i complimenti veramente perché hanno onorato il campionato come ripeto è giusto che sia noi cercheremo di fare lo stesso La parola anche ai giocatori Claudio Derratt che partita hai visto? In che senso il partito? Cioè il tuo commento qual è? No, noi ci dovevamo salvare abbiamo lottato tutto il cuore però la soddisfazione non è arrivata perché da una parte siamo sfortunati dall'altra poi l'arbitro ha fatto Avete avuto diverse palle e gol? Quelle che abbiamo potuto sfruttare sfruttiamo Mister Tripodi Diciamo che la Meritese nel primo tempo ha disputato un grosso match ma fallendo una serie incredibile di palle e gol che alla fine avrebbero potuto avere il loro peso No Mimmo oggi abbiamo giocato male abbiamo giocato male sia nel primo e sia nel secondo tempo poi abbiamo vinto perché volevamo vincere la partita perché abbiamo fatto alcuni cambi Cambi azzeccati Sì, sì, alcuni cambi è entrato Surforo che oggi è stato decisivo Surforo è un ragazzo dei nostri doveva giocare già nelle passate partite però poi per problemi mancanza negli allenamenti e compagnia quindi abbiamo ritardato il suo debutto però è stato un debutto positivo ha segnato ha dato il suo contributo poi c'è stato il contributo di Pasquale Minniti un nostro nuovo acquisto quindi sono contento da questo punto di vista per quanto riguarda la prestazione della squadra ti devo dire sinceramente oggi non mi è piaciuta abbiamo vinto sì, ci prendiamo i tre punti siamo contenti però insomma si poteva fare meglio su Taccuino le occasioni da gol vanno da 10 a 15 sì, sì, abbiamo avuto diverse occasioni ma loro, ti devo dire, non mi sono dispiaciuti anzi, mi meraviglia il fatto che siano 5-6 almeno per loro sì, sì, mi meraviglia il fatto che loro siano fanalino di coda perché giocano con tanta intensità allenato ottimamente da Crea che è un bravissimo ragazzo un bravissimo allenatore una persona seria quindi mi meraviglia il fatto che sono ultimi in classifica perché forse ci sono squadre loro potevano essere sicuramente in una posizione migliore parliamo del futuro beh, il futuro lo sa abbiamo parlato altre volte il nostro futuro sarà una categoria superiore sicuramente sicuramente e speriamo bene il futuro ora intanto prima categoria poi si vedrà sì, sì, intanto dobbiamo finire questo campionato meglio possibile adesso abbiamo quattro partite intense giochiamo con le prime della classe Melicucco, Lazzaro poi Gallina che sta giocando bene sta lottando per salvarsi e l'ultimo a cinque fronti quindi quattro partite toste quattro partite che noi le vogliamo giocare problemi di classifica non ci sono quindi la squadra giocherà con più distensione no, guarda oggi non c'erano neanche problemi di classifica forse è meglio quando ci sono i problemi di classifica la squadra gioca in campo più concentrata oggi ci siamo un po' rilassati e abbiamo a un certo punto rischiato anche di soccombere poi abbiamo avuto quel guizzo nei minuti finali abbiamo rimontato e poi vinto quindi fanno bene i pulcini i galletti di primo canto che stanno crescendo a vista d'occhio hanno già eh tirato fuori gli artigli e gli speroni sì oggi parlavamo di surf ma non dimentichiamo che oggi ha fatto una buonissima partita Borruto che ha giocato dall'inizio Costantino che ha giocato dall'inizio tutti i giovani debuttanti tutti i giovani che hanno fatto che hanno fatto tutto l'altra fila hanno fatto l'Under 19 adesso si ritrovano a giocare in prima squadra sono contenti siamo contenti e proseguiamo così sperando di poter lanciare altri ragazzi l'unione con la calcista Caspinella quindi la joint venture sì sì questo è stato l'infa per noi perché andare voglio dire il giovedì ad allenarsi con 25-26 ragazzi è una soddisfazione perché in questo periodo se non hai obiettivo da raggiungere è difficile raggiungere trovare tanti ragazzi che se allenano quindi per noi è motivo di soddisfazione la specie di fusione che abbiamo fatto con la calcista che è stata una cosa fatta bene si sta svegliando il calcio a merito Portosalvo un grande allenatore per una grande squadra beh adesso non esageriamo noi sicuramente faremo cercheremo di fare un buon campionato anche l'anno prossimo cercheremo di fare questo benedetto in prima categoria in prima categoria con ripescaggio sicuramente noi faremo domande poi vedremo il da farsi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti